faremo questa volta il verbo scoppiare in barice ovviamente presente indicativo vai questa volta faremo la variante del verbo prendere che prima nello scorso video abbiamo fatto con pig questa volta e con ii ad un ii da due nuotene vada l'ora 2 stai attento perché il bambino sta per attraversare la strada state attenzione con cucina per attraversare la mamma che stai facendo sto facendo la massa per fare i panzerotti di carne pomodoro e mozzarella e ricotta forte ma c'è sta faccia da fare sta trombando per fare ciò che è il panzerotto di sul terrazzo c'è un sacco di vento non andare sennò ti raffreddi facciamo per i nostri fans il verbo giocare che ce l'hanno chiesto allora leggi queste cinque parole ok versace versace la levis la levis ikea l'ikea san loran san loren microsoft microsoft oggi sono andato al mercato e ho comprato i cavoli l'elicottero che sta sorvolando sopra casa sta girando intorno intorno per bari l'elicottero che sta girando fino a casa quando sta affascinando il dreddo per bari qualche cosa è successo prima mi sono affacciato alla finestra e ho visto che da lontano sta per arrivare il temporale lo sono affacciato alla finestra e sono visto tutti i migliori miei vuoi vedere che sta avvenendo papum uo uo